Con la mia famiglia che mi dice no, per me non c'è mai stato piano B, questa è la verità. Io non ho mai visto un piano B, io dicevo io voglio fare giornalista, cioè non mi interessa, andrò su questa strada qui, nonostante so che è complicata, quindi parto con quel tipo di mentalità lì, con la mia famiglia che mi dice no, non prendere quella strada lì.